Tra i momenti più significativi della settimana santa c'è quello della processione del Cristo morto e l'Abruzzo annovera uno dei più antichi riti d'Italia, a Chieti, dove la processione del Venerdì Santo richiama visitatori da ogni parte della penisola e anche dall'estero. Una processione dalla storia millenaria organizzata dall'Arci Confraternita del Sacro Monte dei Morti guidata dal governatore Giampiero Perrotti che sarà, nel rispetto delle direttive del Ministero dell'Interno, presidiata da vigilantes, volontari della protezione civile, ambulanze lungo il percorso, posto medico in piazza Giambattista Vico e di vieto per gli ambulanti di consumo e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine. La processione di Chieti sarà seguita da Rete 8 e come consuetudine andrà in onda nella serata di venerdì 19 aprile nel corso dello speciale che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 e durante il quale sarà possibile rivedere i momenti salienti della processione degli incappucciati e del Cireneo del Giovedì Santo di Lanciano curata dall'Arci Confraternita Morte e Orazione San Filippo Neri e la processione della Desolata che si tiene all'alba del Venerdì Santo a Teramo a cui partecipa il Vescovo Lorenzo Leuzzi. Nello speciale è possibile rivedere anche le processioni del Venerdì Santo dell'Aquila, di Sulmone e di Pescara con immagini e commenti di sacerdoti, esperti e studiosi di riti popolari e religiosi.